La tua azienda può affermarsi a livello mondiale se raggiunge i mercati giusti? I fondi e i finanziamenti europei possono trasformare le tue idee in opportunità concrete se ti affidi ai consulenti migliori? La ricerca e la tecnologia della tua azienda possono diventare prodotti di un'azienda di mercato se trovi il partner giusto? Enterprise Europe Network, la rete europea che aiuta lo sviluppo e l'innovazione delle piccole e medie imprese. Fai la mossa vincente!